Per darti la possibilità di una seconda vita, quella che non ho avuto io, la firma è di Giuseppe Iannucci, il 47enne aquilano scomparso due mesi fa sul Gran Sasso a causa di un malore che gli è stato fatale. Questa frase si trova sulla targa che accompagna la postazione salvavita con defibrillatore che è operativa nel Tribunale dei Minori dell'Aquila, donata dalla famiglia Iannucci per onorare la memoria di Giuseppe. All'inaugurazione familiare e tanti amici, oltre alle massime autorità, si tratta del terzo defibrillatore negli uffici giudiziari dell'undicesimo in città, grazie alla campagna lanciata ormai due anni fa dall'associazione Azimut Io Centro, l'Aquila Città Cardioprotetta, realizzata anche in collaborazione con il CRAL Giustizia. La Presidente del Tribunale dei Minori ha voluto ringraziare la famiglia per l'immenso atto di generosità, così ha fatto anche il Sindaco per Luigi Biondi, rimarcando sull'importanza di avere questi strumenti a disposizione. Trasformare il dolore in amore, in aiuto concreto rivolto agli altri, anche perché, come ha ricordato il fratello di Giuseppe Domenico, forse se fosse stato presente un defibrillatore in zona, una persona capace di fare il primo soccorso, Giuseppe sarebbe stato ancora parte di una comunità che amava e che lo amava, perché Giuseppe era un generoso e sicuramente un gesto del genere da lui sarebbe stato supportato. L'impegno della famiglia non si fermerà qui, perché l'obiettivo è ricordare Giuseppe attraverso iniziative sociali e rivolte agli altri. L'azione di Azimut, associazione diretta dal Presidente Alessandro Maccarone, è sempre più incisiva e ha permesso alla città di essere dotata di un numero di defibrillatori importante. L'obiettivo è installarne sempre di più, ma anche dedicare una parte dell'attività alla formazione per l'uso. Sì, noi siamo nati circa due anni fa con questa campagna Io Centro, l'Aquila Città Cardioprotetta, che voleva proprio significare che l'Aquila doveva essere dotata assolutamente di queste postazioni di salvavita che mancavano ed erano una carenza fortissima all'interno del suolo cittadino. Siamo partiti con la prima, siamo partiti con la seconda, poi è diventata una campagna che è andata a crescersi col corso del tempo e oggi siamo qui anche grazie alla solidarietà, alla sensibilità, nonché al ricordo che hanno voluto fare per il fratello scomparso Cristian e Domenico Ioannucci. Quindi un grande momento di ricordo all'insegna della prevenzione e della sicurezza.